Ok signore, sì, ecco, stavo scrivendo praticamente tutto quello che abbiamo studiato per quanto riguarda queste nuove specie di arachnidi, ecco, e credo che ho scritto tutto quello che dovevo Bene, 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 allora, tutto tutto sicuro? Eh, in realtà mi serve solamente completare alcune informazioni inerenti ai loro veleni, però del resto credo che comunque mi sto avvicinando alla completezza dei loro veleni Va bene, va bene, va bene Eh, allora, senti, io credo che per oggi stacco, tu finisci questa cosa e poi ricordati di chiudere tutto, ok? Eh, va bene, sì, certamente signore, non si preoccupi Ah, e sta attento all'arachnidi più a destra, non aprire per nessun motivo la trapdoor Certamente signore, certamente, non si preoccupi Ok, domani, allora, vediamo un attimo Dunque, allora, dunque, ecco qua, perfetto Continua a scrivere, va bene Dunque, ecco fatto Perfetto Ok, credo che ci siamo Eh, che cavolo è successo? Dove, dove cavolo è finito il... Il ragno, quello più a destra Oh no, oh no, mi ha morso Felicissimo di comunicarvi che sarò presente a Luca Comics & Games il 5 novembre alle ore 15 nello stand di Sonic Mi raccomando, se avete un tizio con la velpa blu e i capelli neri come i miei, sarò probabilmente io Ci si becca lì Oh cavolo, no, era quello più sperimentale tra tutti Oh no, 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 Ok, 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 ok Ok, devo chiudere, devo chiudere Non devo farlo scappare, non so dove è andato Ma non devo farlo scappare Ok Oddio Mi sento stranissimo in questo momento Meglio ritornarsene a casa, ragazzi Oh, sciaboletta Oddio Zia Mei e zio Ben mi stanno aspettando Mi sa che ho ritardato troppo Oggi a scuola Oh, cavolo, devo sbrigarmi, devo sbrigarmi Oh, tutto bene, va tutto bene Sbiliter, va tutto bene Oh, mamma mia Zia Mei, zio Ben Oh, ciao caro Bentornato Ok Salve, salve, insieme a ti cari Bentornato, bentornato Un po' tardi oggi Sì, sì, lo so aspetta un attimo Mi sono cambiato mentre sono arrivato qua Mi sono tolto le nalle Senti pure, ho fatto tutto Sì, durante, proprio quando stavo camminando nel colito Io mi sono spogliato Però voi non l'avete visto Perché sono troppo veloce Comunque, come state? Tutto bene? Tutti giorni d'oggi Tutto a posto Tutto a posto Comunque, ti ho preparato la cena La vuoi? Oh, guardi Sia meglio Preferirei evitare Mi sento un po' scombustolato oggi Oh, oh Ho capito Buona medicina Per la tosse No, 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 no Mi sento solamente strano Mi sono stranito Mi sono stranito Ok Oh, no Sì Senti, la dono a medicina Vado a riposare, ok? Vado direttamente dietro Nella caperta a riposare, sì Ok, se serve qualcosa Dimmelo Ti porto la dono a medicina Ciao, ciao Caro, ciao, ciao Ah, tesoro, tesoro Aspetta un attimo Ah, nella stanza sopra C'è il tetto che si è rotto Come c'è il tetto che si è rotto? Già mai Nel termite, sì E quindi abbiamo messo i secchi Oh, mio Dio Praticamente Era la vostra stanza da letto Si è rotto Eh, sì, sì Guarda qua Che distetta E purtroppo Per sistemarlo Ci vogliono Ci vogliono 10.000 10.000 Sono tanti, tanti 10.000 Sì No, troverò Tranquilli Non potete stare Con il tetto qua Che vi piove dentro Esatto Troverò un modo Per sistemarlo Va bene Troverò i soldi Ah, grazie Caro Fattino la macchina Oh, grazie Non vi preoccupate Vado a riposare Oh, mio Dio Che cosa mi accade Oh, cavolo Non mi sento Benissimo Eh? Come faccio a vedere Anche se non ho gli occhiali? Eh, ma che cosa Non cambia nulla È come se praticamente Io riuscissi a vedere Io riesco a vedere Anche senza gli occhiali Com'è possibile? No, no Io ero 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 Avevo Avevo problemi di vista Non è impossibile Che Oh, mio Dio Questa cosa non riesco a spiegarmela Non riesco a spiegarmela Oh, cavolo Cosa? Ma Ma Cosa? Posso Arrampicarmi? Com'è possibile questa cosa? Non si stacca Non si stacca Oh, mio Dio Posso arrampicarmi ovunque? È impossibile questa cosa? Com'è possibile? Oh, sciapolette Oh, mio Dio No È impossibile questa cosa Devo Devo assolutamente capire Oh, mio Dio Cosa mi accade? Oh Eh? Ma che salto ho fatto? Oh 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 Oh, mio Dio Dopo che mi ha mosso quel ragno Mi sento stranissimo Mi sento Fortissimo Non mi sono fatto male Oh, cavolo Ok Sapete cosa? Credo che Devo Mettermi Un'armatura Sì, devo crearmi Un qualcosa Che mi faccia Che mi rende Anonimo Perché non posso dire Queste cose a nessuno Mi sono fatto mordere Da quel cavolo di ragno E credo che Grazie a questo Ho adesso Dei poteri incredibili Uhuuu Ok Io sono Sbriter Parker E riuscirò A sconfiggere Il crimine Ok Ora devo solamente Ritornare indietro E farmi una bella Armatura Vediamo Vediamo cosa posso trovare Su internet Sì, ok Questo Sì, ok Perfetto Questa maschera ci sta Ottimo Dovrebbe arrivarmi Spero vivamente Che mi arrivi Il più presto possibile Uhuu Che bello Rampicarsi La 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 Caro Caro Dove sei caro Dove sei Sono qua Sono qua Dove Qua dietro di te Qua dietro di te Ah Ah Ciao caro Ma non porti più gli occhiali Eeeh No Ho le lentine Sì Il dottore mi ha detto Che posso usare le lentine Che non mi stancano Sì, era tutta una leggenda Metropolitana Il fatto che se porti le lentine Mi stanca la vista Vabbè Comunque c'era arrivato Il corriere Il corriere Oh Oh sì Il mio pacco Ah il tuo pacco Sì È una roba mia È una roba mia Ma è pesantissimo Come fai a portarlo Con così Non vi preoccupate Ci vediamo Oh Dove lo fa Non me lo aspettavo C'è un altro Ok Perfetto Oh mio Dio È arrivata l'armatura È arrivata l'armatura Perfetto Perfetto Vediamo Mi piace Io sono Spider-Man E riuscirò E io Riuscirò A salvare Il crimine Ok Vediamo un po' Cosa posso fare Vediamo Ancora piove qua Ma non importa Io sono Spider-Man Oh sì Ok Ok Oh Fido pure di piovere E vai Ok Vediamo cosa riesco a fare Ok Adesso continuiamo Mi arrampico Ecco fatto Ok Guardate Mi sono arrampicato Sopra un cavolo Di parcheggio Posso fare dei salti Incredibili Aspettate Posso fare Posso provare A fare un salto Per sola parte Ok Ci provo Ci provo Uno Due Ha funzionato Ok Ora verso Quella parte È stato incredibile Oh mio Dio Posso praticamente Arrampicarmi E andare E fare un pazzo In giro Ok Ora verso Quell'albero Voglio arrivare Verso l'ospedale Oh no 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 Che male Ok Non ho cotato Il fatto che Potevo cadere Dall'albero Wrestling Mob Compenso 10.000 euro Oh mio Dio Devo assolutamente Provarci Forse Proprio 10.000 dollari 10.000 euro Quelli che sono Così che posso Riparare il tetto A zio No a zio Ben Zio Mei Però come cavolo Posso fare Dove cacchio Si trova Questo wrestling Dei mob Oh Ehi zio Che cosa vuoi Eh senti Praticamente Mi servirebbe Che mi dicessi Dove cavolo Sta questo wrestling Dei mob Eh Vuoi che ti raccompagni Si per favore Potreste accompagnarmi Eh Vieni da me Ok Uh E vai Aspetta Sto parlando Con un ragnettino Ok Questa cosa È molto strana Eh Sì sì Arrivo 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 Oh mio Dio Sto davvero Letteralmente Parlando Con un piccolo ragno Ok Attento A non essere schiacciato Non mi farò schiacciare Come mio cugino Non ti farei schiacciare Come tuo cugino Sì Mio cugino È morto Ammazzato Da un pullman Ah Mi dispiace Le cose della vita Non possono capitare Possono capitare Ah ok Eh beh Ci sta Lì trovo questo posto Ok Non ho capito Questa volta Quello che hai detto Eh però C'è una caverna Lì sotto Ah Nella caverna Ok Va bene Grazie mille piccolo ragnetto Eh ciao Ok Quindi qua è praticamente Dove combattono i mob Vediamo un po' Oh Eh Salve Ecco Volevo combattere Per il compenso Posso? Ah Oh Sì Ok Oddio Aspettate Ma Ti devo battere Quei tre Ah va bene Ok Lo scheletro prima Va bene Batti sotto Scheletro Sei solamente Tutto Per le ossa Wow Oh L'ho fatto fuori Ottimo Perfetto Vediamo se ci riuscite Ad arrivare Verso dove sono io Eh Ora gli faccio Un tuffo carpiato Eh Woohoo Boom 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 Nere 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 Boom 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 Ah Sono troppo più forte di te E sto rompendo pure Oh Mi scusi signor Enderman se sto rompendo i blocchi Però la mia forza riesco a contenerla Oh cavolo Quello è davvero grosso Ok Va bene Ci devo riuscire Ok, nella testa, nella testa Devo prenderlo Oh cavolo Guarda dove sono Sono qua sopra Ditto nella fronte Non mi prendi, non mi fai nulla Sono più forti di te Colpo finale Boom Ce l'ho fatto, li ho distrutti Adesso voglio il mio compenso Ah si, mi scusi Non volevo distruggerle Il suo piccolo bar sotterraneo Dei mob Non volevo minimamente Non è il mio compenso signor Enderman Per favore Eccolo, forse me lo sto dando Oh mio dio, sono veramente 10k 10.000 Non ci voglio credere, sono veramente 10.000 dollari Grazie mille, arrivederci Ciao ciao Oh cavolo, questa sì che è una cosa figa Ok Aspettate Perché mi sono farsi Perché mi sento male Eh? Che cacchio è questa cosa? Eh? Webbing Wow Wow Posso tirare delle ragnatele adesso Oh sì, questa sì che è una cosa figa Aspettate Ma se non sbaglio Le ragnatele Sono molto appiccicose E possono tenermi attaccato alle cose Di conseguenza Stavo pensando Se magari riuscissi a modificare queste ragnatele Grazie al fatto che sono uno scienziato E potessi trasformarle in delle funi Oh, sarebbe ottimo Però devo studiare questa cosa a casa mia E non mi devo fare vedere Eh sì È la prima cosa che devo fare Comunque adesso posso andare a dare finalmente i soldi Ai miei zii Oh sì, sarò felicissimo di questa cosa Ottimo, perfetto Andiamo da allora Allora Ecco fatto Ehi Zio Ben Zia Mei Ho preso i soldi Ciao Ho preso i soldi Come sei vestito, caro? Eh sì Non è che li si andate a rubare? Ma no No, no, no È che è Halloween Mi devo ricordare che è finito Sì, e quindi me lo sono dimenticato di togliermelo Dove gli ho preso i soldi? Eh io Li ho lavorati duramente E ci sono riuscito Oh che bravo Grazie Ti ho vinto in realtà Tieni una bottiglia d'acqua come premio È una bottiglia di vino questa Non ha la demenza sedile Si sta facendo sentire Però non si verrà qui Eh Me ne vado Me ne vado di sopra Eh ci vediamo Ciao Oh cavolo Mi sono fatto vedere con questa maschera Non dovevo Sono un idiota Vabbè, non importa Ok, bene Allora Adesso Perché mi hai dato questa cosa? Ok, devo fare le funi ragnatella Vediamo cosa riesco a fare Ok, perfetto Dovrei aver fatto le ragnatelle giuste Proviamoci Vediamo Vediamo se funzionano Allora Vediamo Wow Si funzionano Adesso veramente posso Praticamente Andare in giro Aggrappandomi alle cose Uh Se riesco Imparo pure A swingare Si è possibile Soprattutto nelle città Oh È perfetta questa cosa Ok Ritorniamo indietro Ecco da questa parte Ok Bene Oh Finalmente posso andare Da mia zia Oh Ciao zia May Sono qua dietro di te Ah ma quando sei arrivato caro Era già giù sotto Si erano Un attimo di giro Senti caro C'è un problema Ah 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 Non ci è andato a comprare il latte al negozio E non sto più tornando Ah da quando è che è uscito zia May Ah Due orette Due orette Due orette Sì Oh mio dio Devo assolutamente vedere dove cavolo è andato lo zio Ben Arrivo zia non ti preoccupare Ah ah Oh mio dio Oh mio dio Devo andare da Da Ha detto che è andato per comprare il latte Quindi dovrebbe essere andato Nel negozio di latte Andiamo a vedere Ok Ok Eccoci qua Allora dovrebbe essere andato nel supermercato Quello lì in fondo E tra l'altro ci sono stato pure Di sopra Ok l'ho mancato questa volta Ah mannaggia Vabbè non importa Ah Ok eccoci qua Oh mio dio Che cosa è successo lì in fondo Eh Eh Zio Ben È mio zio È mio zio Zio Ben Io lo Zio Ben Che è successo Ho sparato un criminale Era qui Come Nel negozio Sì E mentre usciva Mi aveva sparato No No zio Ben Non è possibile Tranquillo zio Ben Adesso lei Lei adesso Vivrà Ok Allora Allora E E così Figaro mio Ricordati che Da grandi poteri Dirivano grandi responsabilità Hai capito? Dio Devo andare a vedere dove è andato Quel criminale Non può essere andato lontano Non può essere andato lontano Dove è andato? Eccolo È lì Dove mi scappi? Vieni qua Vieni Oh cavolo no Stami lontano Via No Aiuto Oh no Fermo spero Stai fermo Fermo lì Alta là Hai ucciso mio zio Perché l'hai fatto? Fatti i cavoli tuoi Fermo lì Io Io non ti perdonerò mai Non c'è un perdone per quello che hai fatto Io Io Fermo lì Fermo È davvero Non l'ho ammazzato Ti hanno salvato le regnatele Aiuto Sono bloccato Non riesco a uscire Che cos'è questa roba? Andrà in carcere adesso Andrà in carcere adesso Ok Ok Oh no Cosa dirò adesso Anzi a me Oh no Lo so Anzi a me Lo so Non è possibile Ti prenderò io Cura di te Anzi a me Ok Grazie Io faccio che adesso Sia proprio Il momento Giusto Per un ciocchino Alla pera Tieni Caro Sì a me Tranquilla Le cose Si distraveranno Zio Ben Se n'è andato Ma rimarrà sempre Nei nostri cuori Mi raccomando ragazzi Per altre nostre vetture Se questo video vi è piaciuto Lasciate like Iscrivetevi al canale Non ci vuoi che viene Un prossimo Nuovissimo video Cosa Oh Ciao 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 Ciao